Con le pettorine di colore giallo e la scritta sulle spalle metti in moto il dono hanno acceso i motori dei loro veicoli a due ruote per partecipare all'iniziativa nazionale della FIDAS che ha fatto tappa anche nel capoluogo Nisseno. Numerosi infatti i cittadini che si sono dati appuntamento in piazza Falcone Borsellino per parlare di donazione del sangue e allo stesso tempo stare insieme e visitare una parte della Sicilia a bordo delle proprie vespe e moto. Dopo la partenza dal viale della regione hanno effettuato un itinerario cittadino passando anche per il centro storico Nisseno prima di lasciare la città. L'evento ha coinvolto anche le realtà di Agrigento e Gela. I due gruppi infatti si sono incontrati con quello proveniente da Caltanissetta a Villaggio Mosè per poi spostarsi tutti insieme costeggiando la Valle dei Templi fino a San Leone.